Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, arriva alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per omaggiare la memoria del fiorentino Paolo Grossi, insigne studioso della storia e della teoria generale del diritto e a sua volta ex presidente della consulta. Per me è importante innanzitutto perché è stato un grande amico, è un grande professore e poi l'ho conosciuto come giudice costituzionale e poi come presidente della Corte, ha dato il suo segno in tutte le istituzioni che ha attraversato. L'occasione della visita è stato il convegno intitolato Le radici e le forme, la capacità ordinante del diritto, una riflessione anche sul ruolo stesso della Corte Costituzionale. Il convegno su Paolo Grossi è stato l'occasione per chiedere alla Presidente della Corte Costituzionale anche un commento sulla nuova legge anti-raive che in molti tacciano di incostituzionalità. La Corte è sempre garante dei diritti ma i giudici e soprattutto il Presidente non si esprimono mai sulle questioni che sono oggetto di dibattito e di confronto in Parlamento. Grazie. Grazie.